Nova Mobili è un brand di Battistella Company, un gruppo industriale di pieve di solico che figura tra le maggiori realtà dell'arredamento made in Italy. Dal 1967 i sistemi modulari e gli arredi Nova Mobili si distinguono per la loro capacità di ispirare concetti personali di vita domestica e definire nuove regole per costruire gli spazi attorno a sé. Nel reparto ricerca e sviluppo, un team di progettisti, ingegneri e tecnici collabora con importanti nomi dell'architettura e del design per proporre soluzioni d'arredo innovative e personalizzate. Dalle linee di produzione alla gestione del magazzino, tecnologie all'avanguardia uniscono un livello di produttività eccezionale alla precisione nell'esecuzione. Un'innovazione che si integra all'esperienza e alla tradizione, sempre all'insegna della qualità. Sensibile al tema della sostenibilità, Nova Mobili predilige processi a basso impatto ambientale e materiali naturali e duraturi. Nel 2002, prima in Italia, ha introdotto il sistema di laccatura all'acqua, un tipo di verniciatura che rispetta l'ambiente e la salute delle persone. Nell'ottica di una comunicazione omnichannel, Nova Mobili racconta il suo mondo attraverso cataloghi, sito, profili social ed eventi. La rete vendita è diffusa in tutto il mondo. Il flagship store di 500 metri quadrati si trova a Milano in zona Porta Nuova, uno dei quartieri più dinamici e vivaci della capitale del design. Un luogo da cui lasciarsi ispirare per creare case che rispettano la personalità di chi le vive ogni giorno. Nova Mobili, Home System Daily Spire.